Nel romanzo Body Art dell'Illo descrive una donna. Nella reclusione ipnotica del lutto, in una casa isolata di campagna negli Stati Uniti d'America, che ogni notte contempla sul monitor del proprio computer la schermata di una camera di videosorveglianza puntata su un'autostrada del nord Europa. Contempla i tir, le auto sfrecciare, senza audio, fino all'alba. A volte parla nella solitudine con un fantasma, o forse uno spettro alieno, o forse soltanto un disturbo mentale. Comunque è una presenza immaginaria, dalla lingua mutante. Questa lingua poi si svilupperà in uno dei romanzi successivi di Delillo, Zero K, dove sarà la lingua della vita sospesa nella criogenesi. Lo scrittore non emette sentenze, non esprime qui opinioni né giudizi morali. Osserva, si limita ad osservare, una donna. Nella sua antica solitudine di essere umano, di creatura umana, in una casa di campagna, che guarda i tir sfrecciare sullo schermo del proprio computer, a notte. Ogni giudizio perde irrimediabilmente il suo oggetto, scambiandolo con una mistificazione. Mentre il solo modo che abbiamo per conoscere il mondo che siamo, e non solo in cui siamo, è l'esercizio dell'immedesimazione. Delillo, che io considero il più grande artista della nostra epoca, mi ha insegnato a riconoscere sotto le forme della realtà un'intuizione antica, vale a dire la legge della convergenza. Non importa quanto e come si svilupperanno le forme del reale, poiché in ogni caso la somma dei suoi contrari condurrà alla medesima costante. Questa costante è una vibrazione di fondo, un home cosmico percepibile ad occhi chiusi anche nel pieno centro di una megalopoli, in pieno traffico. Il peccato originario, vale a dire il pensarsi linguisticamente come un io, il credersi realmente un soggetto che coglie un oggetto, la mela di Adamo, medesima autoconvinzione di ogni cellula tumorale, trova il suo contraltare o perlomeno il suo contrapunto armonico nella preghiera, che scopre nella contemplazione il proprio non essere altro che una rifrazione del pluriverso che scorre. Nella misura in cui l'esercizio della preghiera anela allenire l'infiammazione degli io, Lauren, la donna protagonista di Body Art, non fa altro con i suoi mezzi, che sono poi i nostri mezzi della storia recente tecnologica e digitale, che riattivare un'antica forma di meditazione. Questa tecnica arcaica di salvazione o di cicatrizzazione non agisce nella ripetizione dei canoni storici o nei moduli allegorici e liturgici di una specifica tradizione confessionale, ma si esprime spontaneamente in una forma ibrida e sincretica, tecnologica e neoprimitiva di raccoglimento e di ascesi. Con maggiore coraggio questa alienazione, questa forma di distanza mistica, può e sa osservare il mondo con occhi genuini, in quanto nulla gli è vicino, ma al contempo nulla gli è estraneo. Ciò di cui parlo probabilmente non sarà De Lillo, però è la funzione De Lillo che ho inventato. Ho molto amato il personaggio di Lauren, il suo silenzio tutto teso all'ascolto di una trasformazione ignota ma imminente, questo suo rito domestico di elaborazione di un lutto, di abbandono e di guarigione, fino all'estasi visionaria, dove la stanza di un appartamento si fa capanna sudatoria e il monitor di un computer strumento sciamanico di trance. Solo recentemente ho potuto comprendere appieno la profezia che conteneva questa vicenda narrativa, in grado di anticipare di oltre un decennio l'immaginario in atto del lockdown interiorizzato dei nostri giorni. Grazie. 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 Grazie a tutti